Eccoci qua, scusate però Ormai tutte le live incominciano con 5 minuti di ritardo Ormai è diventato lo standard Perché ogni tanto mi incanto E c'è un po' di problemi col computer Che evidentemente comincia ad essere un po' troppo pieno di roba Buonasera a tutti, benvenuti Ottolina Nuova puntata di Otto Sofia Dopo la pausa samarcandese dell'altra settimana Stasera è tornato con noi Chi segue Ottolina dagli esordi Insomma lo conosce già bene Emiliano Alessandrile che è già stato nostro ospite Almeno una volta forse due credo Una sicuramente sulla rivoluzione russa Tant'è che nei vari commenti Se lo ricordavano Dall'anno scorso E che poi siamo sempre allo stesso periodo Ah è vero No è proprio oggi Cioè era ieri Anzi scusateci che non abbiamo fatto niente Il nostro livello di nostalgia sta passando La nostra nostalgia sta un po' scadendo Perché appunto ormai Pechino domina E quindi No questo te Ti non credi nella nuova fede Io sono un vetero Ti non credi nella nuova fede Va bene E comunque insomma grandissimo piacere Di avere Emiliano con noi Che appunto anche l'altra volta Fece un intervento notevole Tra l'altro appunto Che pubblicammo anche a parte Perché insomma era Sempre Incisivo come sempre E basta che dire Appunto è importante Affrontare questo tema qua Insomma sembra un po' Lontano dall'attualità Invece appunto Siccome è nella propagandistica Filogenocida Insomma oggi appunto La discriminante è che appunto Le democrazie Quelle che in occidente Dalla propaganda occidentale Vengono definite democrazia Hanno il diritto in qualche modo Di usare qualsiasi strumento Per arginare No la giungla selvaggia Che le mette a rischio E quindi appunto La democrazia israeliana Oggi ha il diritto In qualche modo di difendersi E nel diritto di difendersi Che ovviamente ce l'ha davvero Il diritto di difendersi Nessuno dice di no Negli strumenti per difendersi C'è anche quello Di sterminare Un'intera popolazione La guerra di Israele Contro i bambini arabi Come l'abbiamo ribattezzata E quindi diciamo Un po' attiene Molto attinente Anche a un dibattito Che è in corso ora Io ora mi chiedo Perché il vero Fautore di questa puntata È il nostro Giulio Che quindi ora Non lo entri Presentiamolo Presenta Anche lui Unesimo insegnante Di filosofia E niente Benvenuto Giulio Che è dislocato Ma c'era già anche l'altra volta Sì ma non l'abbiamo Presenta È stato sito È vero Dislocato su più aree Geografiche italiane Ha avuto l'idea Di invitare Emiliano È stato un grande autore Del pippone Che abbiamo mandato in onda Sul testo di Emiliano E niente Lascio a lui Con giù la parola Vai Giulio Grazie Grazie Sì Il tema Di questa sera Io credo sia Molto attuale Anche se È molto storico Cioè Il grande tema È quello Della problematizzazione Della democrazia E la problematizzazione Della democrazia Nasce un po' Con la democrazia Quindi È un problema È una questione Che anche Emiliano Nel suo libro Fa risalire Già All'antica Grecia Dall'antica Grecia E ho pensato Che la stessa filosofia Se pensiamo a Platone Se facciamo nascere La filosofia con Platone La filosofia platonica Nasce in risposta Al problema democratico Ateniese Quindi Si può dire Che la scintilla Della filosofia platonica Nasce proprio Quando Platone Vede che la città Di Atene Che è una democrazia Ammetta a morte Socrate Quindi Il grande problema Della Dell'ingiustizia democratica E quindi Il tema attuale Anche se è Un tema Di lungo corso È Comunque Rimane comunque Un grande problema E già Fin dal titolo Del libro di Emiliano Che è questo qui Diciamo Il problema Viene in qualche modo Messo in evidenza In maniera abbastanza Diciamo Politicamente scorretta Vogliamo dire Infatti L'idea Del testo Di Emiliano È quella Di Contrapporsi Cioè Mettersi In polemica Con una certa Vulgata Che vuole La democrazia Come Contrapposta In maniera Sostanziale Rispetto Alla Dittatura Rispetto Al dispotismo Quindi Questa Diciamo La politologia Liberale E il senso Comune Portano A leggere La democrazia Come l'opposto Della dittatura E rispetto A questa Impostazione Qui In questa Vulgata Il libro Di Emiliano Invece Fin dal titolo Cerca di Entrare A gamba Tesa Quindi La prima domanda Che vorrei fare A Di Emiliano È proprio Parlarci Del motivo Che lo ha spinto A scrivere Questo libro E Della sua Diciamo Dell'obiettivo Polemico Che fin dal titolo Richiama Cioè Viene richiamato Sì Io ci terrei A precisare Che Se il mio libro In qualche modo Fin dal titolo È politicamente Scorretto Credo che sia In realtà Logicamente Corretto Perché è quello Che cerca Sostanzialmente Di fare Cioè Di ricondurre Il concetto Di democrazia A una coerenza Logica E liberarlo Un po' Dalle semplificazioni E anche dai Manicheismi Tutto oggi In voga Che sono Manicheismi In qualche modo Che riproducono Quella che Hegel Chiamava La logica Dell'intelletto Astratto La logica Dell'out-out La logica Della giusta Posizione Le cose Non sono Collegate Gli opposti Non hanno Punti di contatto Tra loro Ma sono Posti L'uno accanto All'altro Sostanzialmente E sono Impermeabili L'uno Nei confronti Dell'altro Ecco Io ho cercato Di ragionare Intorno al Concetto Di democrazia Per pensare Questa categoria In modo più profonda Di come Solitamente Accade E per fare Questo Mi sono servito Appunto Dello strumentario Della logica Hegeliana Sappiamo Che La scienza Della logica Di Hegel Si apre Con tutta Una riflessione Intorno al Concetto Di divenire Che cos'è Il divenire Perché le cose Divengono E il divenire Viene presentato Da Hegel Attraverso Il principio Che io definisco Di compenetrazione Reciproca Degli opposti Cioè Il divenire Non è altro Che l'unità Dell'essere E del nulla Non esiste nulla Dice Hegel Né in cielo Né in terra Che non contenga Simultaneamente Tanto l'essere Quanto il nulla Cioè Questi opposti Che sembrano Inconciliabili Tra loro In realtà Coinvi Convivono In tutte le cose Ogni cosa È il nulla Di qualcos'altro Ma ogni cosa Nel momento in cui È il nulla Di qualcos'altro È al tempo stesso Un essere Nulla ed essere Questi due opposti Convivono E si compenetrano In una unità Ecco Lo stesso discorso Io credo Che valga Anche per I concetti Di dittatura E democrazia E cioè La dittatura E la democrazia Non costituiscono Due monoliti Statici Privi di connessione Privi di influenze Reciproche Non costituiscono Per così dire Due treni Che viaggiano Su binari Paralleli In direzioni Contrapposte Ma costituiscono Invece Delle Delle istanze Che hanno Punti di contatto E di compenetrazione Reciproca Ed esistono Tutta una serie Di regimi Politico-sociali Di tipo Democratico Che però Esercitano Una dittatura Feroce Su quelli Che sono Gli esclusi Dalla democrazia Così come Sono esistiti Nella storia Tutta una serie Di regimi Politico-sociali Di tipo Dittatoriali Che però Hanno In qualche modo Impresso Una spinta Formidabile Per l'affermazione Della democrazia E per l'avanzamento Dell'universalità Da qui appunto Il titolo Problematico Dittature democratiche E democrazie Dittatoriali Sì Un aspetto poi Centrale Del tuo libro E anche Appunto La Il tuo La tua polemica Se vogliamo dire Con i pensatori Liberali Con la definizione Con la definizione Di democrazia Liberale Che è Intesa Come un sistema Politico Come un assetto Politico-giuridico Legato al Suffragio Quindi al Votare Alla possibilità Di votare In una competizione Elettorale Come appunto Tu citi Schumpeta E Che tu appunto Leggi Come una posizione Parziale Appunto Una posizione Parziale Che non significa Una posizione Falsa Infatti Abbiamo visto Io ho letto Dei commenti Sotto al video Che abbiamo Prodotto Che dicevano Eh sì Emiliano Alessandroni Dice Probabilmente Non avevano capito Molto bene Quello che si diceva Dice così Quindi che cosa propone Eh no Che cosa propone Rispetto alla democrazia Come la La viviamo noi Ma Io appunto Ho visto Ho letto Che per te La democrazia Di stampo liberale Non è Da abolire Semplicemente Bisogna Vedere Appunto La parzialità E bisogna Aggiungere A quella democrazia Quella forma Democratica Che come dici te La forma appunto Ha una sua sostanza Bisogna aggiungere A questa democrazia Più sostanza E quindi Volevo Capire Meglio Questa tua Posizione Rispetto appunto Alla democrazia Di stampo liberale Sì Anche qua Insomma Il Le mie teorie In qualche modo Avanzano A partire Dalla logica Hegeliana Secondo Hegel Se La forma Diciamo Non è Forse Così sostanziale Come la sostanza Però Anche la forma Per Hegel È una forma Di sostanza Insomma Secondo me La tradizione Marxista Peraltro Ha cercato Anche Di rivendicare Il valore Della Così Di quella Che un po' Negativamente Con disprezzo Viene chiamata Viene chiamata La democrazia Formale L'ha cercato Di rivendicare Già a partire Da Marx Che si è battuto Fin dal principio Per l'affermazione Del suffragio Universale Se noi Prendiamo Il manifesto Del partito Comunista Di Marx Ed Engels Uno dei primi Uno dei primi obiettivi Di quel manifesto È l'affermazione Della democrazia La conquista Della democrazia E la conquista Della democrazia D'altronde È anche stata L'obiettivo Della resistenza Partigiana In Italia La libertà Insomma E non si è trattato Appunto Di una conquista Effimera Di una conquista Irrilevante Si è trattato Di una conquista Piuttosto sostanziale E il principio Liberale Della limitazione Del potere Io credo Che sia un principio In qualche modo Che debba essere Fatto proprio Anche dalla tradizione Egelo-marxista In qualche modo A cui io Per certi versi Mi richiamo Il problema qual è? Il problema È che non si Quell'idea Di democrazia Che è venuta Affermandosi Sull'onda Di questa tradizione Liberale Io credo Che sia un'idea Troppo ristretta Di democrazia Trovo Un'idea Troppo ristretta Perché Insomma La democrazia Non è soltanto La scheda Come sosteneva Come affermava Appunto Polenicamente Franco Fortini La democrazia Non è soltanto La scheda E questo principio Cioè il principio Della limitazione Del potere Dovrebbe essere Fatto valere Non soltanto All'interno Della sfera Giuridico-politica Ma dovrebbe essere Fatto valere Ad esempio Io sostengo Anche all'interno Della sfera economica La democrazia La democrazia giuridico-politica Diventa Inefficace Se non Si espande Questa democrazia Anche Nei rapporti Economici Anche Per quanto riguarda Le disuguaglianze Economiche Non solo Ma questo principio Della limitazione Del potere Dovrebbe Essere fatto valere Anche Nei rapporti Internazionali Cioè Se noi Nei rapporti Internazionali Non facciamo valere Questo principio E invece Crediamo Che possa esistere Uno stato Che si arroga Il diritto Di intervenire In ogni parte Del mondo Perché Ritiene di avere Un potere Superiore A tutti gli altri Stati Ecco Siamo Ritorniamo Ad una vanificazione Del principio Democratico Io Quindi Credo Che Il principio Della limitazione Del potere Che la teoria Liberale Ha formulato Sia un principio Sacro santo Semplicemente Questo è Questo principio La stessa Tradizione Liberale Non ha mai Saputo Pensarlo In termini Universali E non Sempre Avuto difficoltà Ad applicarlo Alla sfera Economica E alla sfera Dei rapporti Internazionali Scusa Posso fare Una domanda Io su questa Cosa Su questa Limitazione No nel senso Perché Un pochino È una cosa Che ci chiediamo Da un po' di tempo Quanto Poi Diciamo Questa Appunto Versione Del liberalismo Incapace Di Trasferire Anche sul piano Della limitazione Del potere Economico La riflessione Sacro santa Io sottoscrivo Sulla limitazione Del potere Dal punto di vista Giuridico Politico Sia un po' Una degenerazione Attuale Del liberalismo Infatti Nel senso Quando si parla Di liberalismo E si parla Di Adam Smith Una cosa Che ci diciamo Spesso Magari Prima o poi Una puntatona Sola su Adam Smith Caro Gabriele Prima o poi Andrà fatta Che in realtà Poi In Adam Smith L'idea Della Limitazione Del potere Anche economico C'è e come Al di là Della vulgata Di cosa significasse La mano invisibile Eccetera Poi Nella ricchezza Delle nazioni Quel concetto lì C'è e come Infatti Diciamo Spesso Adam Smith Oggi sarebbe Un po' Un militante Di potere Al popolo Sostanzialmente E Quindi mi chiedo Questa cosa qua C'è quanto Questa cosa Che giustamente Sottolineato Sia proprio Intrinseca Alla tradizione Liberale Ossia E quindi Di non riuscire A trasferire Questo ragionamento Anche sulla sfera Economica Quanto invece Sia figlia Di una degenerazione Contemporanea Del pensiero liberale Che ha scordato Un po' Invece Un po' Di antica saggezza Diciamo Almeno degli economisti Classici Sicuramente All'interno Della tradizione Liberale Ci sono anche Liberali Sui generis Cioè liberali Che sono anche Aperti ai principi Del socialismo E per certi versi Anche del marxismo Tu hai citato Adam Smith Ma si potrebbe Pensare anche A Carlo Rosselli Si potrebbe pensare A Piero Gobetti Insomma ci sono sicuramente Dei liberali Che hanno Aperto Al concetto Di democrazia Economico Sociale E tuttavia La vulgata Maggiore Insomma Pensiamo A economisti Come O anche a pensatori Come Friedrich Von Hayek Cioè O Anche Ad esempio Karl Popper Cioè Ci sono tutta una serie Di autori E di filosofi Di economisti Liberali Per i quali Invece La limitazione Del potere Sul piano economico Non fa altro Che limitare La libertà E Questa è una visione In qualche modo Un po' astratta Della libertà Perché diventa Un'idea di libertà Che corrisponde A un semplice Fare ciò che si vuole Ma il fare ciò che si vuole Non è altro Che una condiscendenza Nei confronti Dei rapporti Di forza vigenti Io volevo Invece Soffermarmi un attimo Su questo rapporto Di democrazia E dittatura Che anche questo Lo vedo Di lunghissimo periodo Forse uno dei primi esempi Di questa Diciamo Coniugazione Tra democrazia E imperialismo È l'Atene L'Atene di Pericle L'Atene Diciamo Del quarto Il quinto secolo E un testo Forse dove Dove viene descritto Questo Questo dispotismo Dei democratici È forse Il quinto libro Di Tucidide Delle storie di Tucidide Dove c'è il dialogo Dei meli E degli atenesi Lì I democratici Atenesi Vanno Dai meli E gli dicono Guardate O fate come diciamo noi O sennò Verrete spazzati via Vi distruggiamo E questo Appunto Poi Verrà Verrà fatto Quindi I meli Verranno distrutti Dai democratici Atenesi Tu nel libro Diciamo Individui Lo Stato Che rappresenta Questa coniugazione Tra democrazia Dispotismo Negli Stati Uniti Scusa Giulio Ti sei un attimo bloccato A un certo punto No Dico Te individui Nel Lo Stato Che rappresenta Questo connubio Tra Dispotismo E Democrazia Nell'attualità Negli Stati Uniti D'America Soprattutto Almeno Dal 45 Ad oggi E quindi Volevo Volevo Sentire Da te Cioè Se ci potevi Spiegare meglio Questo Diciamo La particolarità Della democrazia Dispotica Statunitense Sì In realtà Io Affermo Che gli Stati Uniti Siano Una Democrazia Dittatoriale Non soltanto A partire Dal 45 Ad oggi Ma Abbiano Sempre Mantenuto Questo tipo Di struttura Pensiamo Ad esempio All'Ottocento Nell'Ottocento La democrazia Americana Nasce Sull'onda Di Almeno Due Olocausti Che L'Olocausto Dei Neri Degli Afroamericani E L'Olocausto L'American Holocaust L'Olocausto Degli Indigeni E poi Dei Pelle Rossa E Nasce Tra l'altro Sulla base Anche Di due Schiavitù La schiavitù Dei Neri Nel sud Degli Stati Uniti E la schiavitù Dei Cinesi Che venivano deportati Per l'appunto Dai porti di Macao Di Hong Kong Attraversavano il Pacifico E ne venivano impiegati A lavorare Nelle miniere Americane E nella costruzione Della prima ferrovia Transcontinentale I cosiddetti Culis Gli schiavi Indenturati Che poi Non sopravvivevano Ai 5 A massimo 8 anni di vita Dal momento In cui venivano Prelevati Dalla Cina Ebbene Questi schiavi Hanno costruito La cosiddetta Democrazia americana E un liberale Del tempo Piuttosto famoso Piuttosto noto Che si chiama Alexis de Tocqueville Si reca Negli Stati Uniti Descrive La società americana Descrive anche Con una certa dovizia Di particolare Il processo Di schiavizzazione Dei neri a sud E il processo Di annientamento Degli indiani Ad ovest Eppure Conclude il suo libro Intitolandolo La democrazia In America E cioè La sua visione Sostanzialmente Gli consentiva Gli permetteva Di parlare Di democrazia In America Indipendentemente Da quella Che era La sorte Degli esclusi Quando solitamente Io faccio notare Questo un po' Anche Ai liberali Nostrani Mi rispondono Sì va bene Si tratta Di una Democrazia Imperfetta Ma mi chiedo io È possibile ridurre Ad una semplice Imperfezione La schiavizzazione Di interi popoli L'annientamento Fisico Di intere Popolazioni No Io credo Che su quelle Popolazioni Non ne veniva Esercitata Una semplice Imperfezione Della democrazia Ma veniva Esercitata Una feroce Dittatura E quindi Se di democrazia Americana Vogliamo parlare Perché all'interno Della comunità Bianca Comunque si stavano Sviluppando Effettivamente Rapporti sociali Di tipo più solidale Si stavano Sviluppando Le strutture Democratiche Il Parlamento I corpi intermedi Però al di fuori Di quella comunità Bianca Le popolazioni Subivono Per opera Di quella comunità Una feroce Dittatura Lo stesso discorso Vale Per quanto riguarda La storia Degli Stati Uniti Dal 45 In avanti Gli Stati Uniti In qualche modo Hanno intervenuto Sono intervenuti In tutta una serie Di paesi Del terzo mondo Sostenendo Peraltro Anche Regimi Di estrema destra Penso al golpe Di Pinochet In Cile Scatenando guerre Contro paesi E popoli Del terzo mondo Penso alla guerra Del Vietnam E anche dopo La fine Della guerra fredda Gli Stati Uniti Sono intervenuti In Iraq Poi sono intervenuti Militarmente In Hanno bombardato La ex Jugoslavia La Serbia Sono intervenuti Militarmente In Afghanistan Poi nuovamente In Iraq Poi sono intervenuti Militarmente In Libia Hanno sostenuto Tutti i moti Dissidenti Che operavano In Siria Contro il Governo Di Assad Insomma Hanno una visione Gli Stati Uniti Non sono mai riusciti A spiegare Al mondo Quale sia La differenza Tra l'estensione Della democrazia A livello Planetario E l'estensione Delle proprie Sfere D'influenza Perché per loro Questi due fenomeni Coincidono Perfettamente L'ideologia A cui si richiamano L'ideologia Dell'eccezionalismo Americano L'ideologia Del manifest Destiny Che ancora Non hanno mai Messo in discussione Appunto Questa idea Secondo cui Il bene La civiltà Si espande Espandendo Appunto Il proprio dominio Sul mondo Ecco Queste ideologie Sono Connaturate Alla politica Estera Statunitense Ma questa Ideologia Del Disgotismo Non è un caso Che quella Che per l'occidente Appunto Costituisce Una fuggida Democrazia Gli Stati Uniti D'America Per tutti i popoli Extra occidentali Che invece Hanno subito Embarghi Devastazioni E bombardamenti Quella rappresenta L'esempio Più imponente Di una Ferocissima Dittatura Da cui Bisogna Liberarsi Per fare Avanzare La democrazia A livello Universale E un altro Per rimanere Sempre In area Di popoli Eletti Proprio perché Gli americani Condividono Forse Con Israele Questa idea Di popolo Eletto Di terra Promessa C'è molto Afflato Religioso Molta Tradizione Religiosa Sia In America Sia Nella nascita Della Nazione Americana Sia In Israele Quindi vorrei Appunto Adesso Spostare Lo sguardo Sulla Sulla Questione Israelo Palestinese Che tu In qualche Modo Affronti Nel libro Nel capitolo Che dedichi A questo Importante Intellettuale Palestinese Che però Ha lavorato In America Proprio Insegnando Letteratura Comparata E letteratura Inglese Quindi Un tuo Collega Diciamo Che ha scritto Cose molto Importanti E un libro È anche Stato da poco Ripubblicato Che è Cultura Imperialismo Che parla Proprio di Questa Di come L'impero Non si muove Soltanto Con le bombe E con Gli aerei Ma si muove Anche Con le idee Si muove Anche Con la cultura Con i romanzi Con la televisione E quindi Edward Said Appunto Questo è il nome Dell'intellettuale Edward Said Ha parlato Molto Di Questo aspetto Dell'aspetto Dell'egemonia Culturale Si rifà Anche A Gramsci A tutto Il discorso Di Gramsci Sull'egemonia Culturale E volevo sentire Volevo Appunto Chiederti Perché Secondo te Leggere Said È Al giorno D'oggi Tuttora Molto Importante E che cosa Ci ha dato La sua Lettura Anche Del conflitto Israelo Palestinese In più Rispetto a Quella Diciamo Quella Più Classica Ecco Più Diffusa Eduard Said Credo che sia Un autore Fondamentale Per Liberare La nostra Cultura Dall'eurocentrismo Di cui È affetta Il libro Più famoso Tu hai citato Culture And Imperialism Che sicuramente È un volume Molto Nutrito Molto denso Ma prima Di quel volume Ne aveva scritto Un altro Ancora Anche Molto interessante Che si chiama Orientalismo Che è la storia Dell'immagine Europea Dell'Oriente E lui Mostra Sostanzialmente Come la nostra Cultura La cultura Occidentale La letteratura La filosofia Il pensiero Sociologico Si è attraversata Da una Venatura Di stampo Razzista Da una Venatura Di stampo Suprematista E che Questa Venatura In qualche Modo Si manifesta Attraverso Tutta Una Serie Di Configurazioni E si manifesta Per lo più In maniera Inconscia Cioè Non è soltanto La nostra Cultura Consapevole Ad essere attraversata Da una Venatura Razzista Ma è anche Il nostro Inconscio Che è attraversato Da una Venatura Razzista E questo Inconscio Viene riprodotto Continuamente Nella cultura Una Delle Delle Cose Che Saeed Mostra Sono I processi Di Umanizzazione Di Deumanizzazione L'altro Soprattutto Quando l'altro È il Nemico O è un Qualche Cosa Da conquistare O da Sottomettere Viene Viene Sempre Deumanizzato Lui Lo mostra Ad esempio Si Fa riferimento A tutta Una Serie Di Film Americani In cui L'arabo In quanto Tale È il Terrorista E il Terrorista In quanto Tale È l'arabo Fa riferimento A tutta Una Serie Anche Di Opere Letterarie In cui Noi Raffiguriamo Ambientazioni Del Terzo Mondo Personaggi Che Provengono Dal Terzo Mondo Che Hanno Sempre Un Qualche Cosa O Di Misterioso O Di Selvaggio Oppure Di Barbaro Pensiamo La Tempesta Di Shakespeare Dove Caliban Ha Delle Fattezze In Qualche Modo Mostruose Pensiamo A Venerdine Robinson Crusoe Pensiamo Alle Ambientazioni Anche Di Un'opera Per Certi Versi Critica Nei Confronti Del Colonialismo Come Cuore Di Tenebra Di Josef Conrad Noi Vediamo Che Le Ambientazioni Africane Del Congo Verosimilmente Sono Sempre Ambientazioni Di Tipo Misteriose Come Se Nascondessero Chissà Quale Minacce Per Quale Minacce Disumane E Gli stessi Abitanti Dell'Africa Non Vengono Configurati Tanto Come Persone Anche Nel Loro Status Di Vittime Ma Sembrano Appunto Appaiono Nel Libro Più Come Delle Ombre Più Come Delle Masse Amorfe Più Come Dei Semplici Numeri E Questo Discorso Noi Lo Ritroviamo Anche Per Quanto Riguarda La Narrazione Attuale Nella Guerra E Nel Conflitto Israelo Palestinese Intanto I media Non Parlano Di Conflitto Israelo Palestinese Ma Parlano Di Conflitto Tra Israele E Hamas E Pure Insomma Finora I militanti Di Hamas Che Sono Stati Uccisi Si Contano Nelle Dita Di Qualche Mano Invece I Civili Uccisi Sono Hanno Superato Sono Più Di Diecimila Al Momento E Metà Dei Quali Tra L'altro Sono Bambini E Quasi Tremila Sono Le Donne Insomma Si Può Parlare Perché Parlare Di Israele Hamas Come se Da Una Parte Ci Fosse Un Popolo Compatto Unito Una Civiltà E Dall'altra Invece Ci Fosse Semplicemente Un Governo Di Stampo Terroristico In realtà Se Si Vuole Parlare Di Un Conflitto Con Un Governo Allora Anche Nel Caso Di Israele Bisognerebbe Parlare Dell'IQUD Che È Il Partito Appunto Che Governa Israele Che Peraltro È Stato Fondato Da Un Terrorista Che Si Chiamava Menachem Begin Che Un Terrorista Che In Un Libro Dal Titolo La Rivolta E Fu Israele Ha Discritto Con Dovizia Di Particolari L'Uccisione Di Oltre 240 Civili Nel Campo Profughi Deir Yassin Comprese Donne Vecchi Bambini Ebbene Questo Terrorista Che Poi È Stato Denunciato Anche Da Un Articolo Di Anna Arendt E Di Albert Einstein Il 2 Dicembre Del 1948 Come Una Persona Una Figura Politica Pericolosa Che Aveva Come Sua Ispirazione Il Modello Di Stato Fascista E Di Stato Nazista Ebbene Questa Figura Questo Terrorista E' Poi Diventato Il Primo Ministro Di Israele Ha Fondato Il Likud Cioè Quel Partito A Cui Che In Qualche Modo Capitanato Oggi Da Benjamin Netanyahu Dall'attuale Primo Ministro Di Israele E In Seguito Poi L'Occidente Conferirà A Menachem Begin Il Premio Nobel Per La Pace Insomma La Narrazione La Narrazione Dell'Occidente E' In Qualche Modo Legata Alle Pratiche Coloniali Dell'Occidente Non E' Una Narrazione Imparziale Una Narrazione Infarcita Di Parzialità Politica E Questo Lo Si vede Anche Nel Modo In Cui Vengono Rappresentate Le Vittime Noi Delle Vittime Israeliane Delle Vittime Civili Israeliane Conosciamo I Nostri Giornali Ci Hanno Fatto Sapere I Nomi Ci Hanno Fatto Sapere I Cognomi Ci Hanno Fatto Saper Conoscere Le Loro Storie Ci Hanno Mostrato Dei Video Della Loro Spensieratezza Della Loro Quotidianità Precedente All'attacco Del 7 Ottobre Cioè Hanno Cercato Di Avviare Un Processo Di Empatizzazione Nei Confronti Di Quella Popolazione Per Quanto Riguarda Invece I Bambini Palestinesi E Civili Palestinesi Che Sono Stati Uccisi A Gaza Noi Non Conosciamo Nulla Noi Non Conosciamo I Nomi Noi Non Conosciamo Le Storie Non Conosciamo Come Invece Nel Caso Opposto Le Interviste Dei Parenti Per Noi Questi Non Sono Veramente Esseri Umani Sono Semplicemente Cifre Sono Ombre E Non Devono Assurgere Appunto Al Rango Di Persone Perché Il Processo Di Empatizzazione Con Quelle Vittime Deve Essere Arrestato E Questo Fa Parte Ovviamente Di Una Pratica In Qualche Modo Coloniale Che Deve Avvenire Anche Sul Piano Dell'immaginario E Non Soltanto Sul Piano Della Conquista Militare Sì A tal Proposito Penso A Quante Volte Ci Hanno Fatto Rivedere Le Torri Gemelle Colpite Che Credo Tutti Abbiamo Visto Centinaia Centinaia Di Volte Tanto Che Non So Quante Persone Pensa Il Nostro Cervello Siano Morte In Quell'attentato Tante Volte L'abbiamo Visto Mentre Tutte Le Bombe Gettate In Iraq Abbiamo Visto Forse Qualche Cosa Verde Che Si Muoveva Che Colpiva Dei Obiettivi E Quindi Sì Diciamo Che Il Diciamo Questo Questo aspetto Qui Culturale Di Colonizzazione Dell'immaginario Come viene Definito È C'è Una Guerra Che è Una Guerra Anche Psicologica Mentale Che si Che si Combatte Oggi Io Avrei Diciamo Così Terminato Con le mie Domande Se Volete Aggiungere Voi Francesco Vuoi andare Tu Che Sì Beh Io Mi Ricollego Ad Alcune Cose Anche Che Sono State Dette Ma Partendo Anche Da Una Riflessione Che Mi Del Concetto Di Compenetrazione Degli Opposti Quindi Il Valore Di Una Visione Dialettica Ecco A me Mi Aveva Colpito Un passo A pagina 30 Quando Si Dice Una Famiglia Nemica Dello Stato In quanto Tale Risulta In ultima Analisi Nemica Della Famiglia Analogamente Uno Stato Nemico Del Proprio Universale Superiore Risulta Un Tempo Nemico Dello Stato Ecco A me Aveva Colpito Questa Cosa Perché Mi Faceva Ragionare Proprio Il Fatto Che Se Uno Stato Se Una Realtà Statale Nega Quei Principi Quei Valori Universali Che Sono Suo Fondamento Non È Più Stato E Questo A me Ha Fatto Riflettere Anche Pensando Al Conflitto Israelo Palestinese Ora Richiamato Però Penso Che Si Potrebbe Parlare Di Qualsiasi Conflitto E La La mia Riflessione Era Questa Che Vorrei Porre Cioè Se C'è Uno Stato Come Israele Che Vuole Affermare Il Suo Valore Il Suo Diritto Alla Sovranità All'autodeterminazione Alla Democrazia E Lo Fa Negando Con La Forza La Sovranità L'autodeterminazione La Democrazia Di Un Altro Popolo Cioè Quello Palestinese La mia Domanda È Se Facendo Così In realtà Israele Stia Negando Gli Stessi Valori Che Sono Alla Base Del Suo Stato Cioè Di Se Come Stato Perché Perché Se Io Affermo Un Valore Cioè La Sovranità Universale Io Devo Riconoscerlo In Tutti I Contesti Empirici Quindi Devo Farlo Valere Per Israele Per La Palestina Per L'Italia La Germania Ecc Se Io Affermo Il Valore Negando Il Valore Dell'altro Sembra Come Che Stia Dicendo Che In realtà La Mia Sovranità Non Ha Il Diritto Di Esistere Perché È Fondata Perché C'è Un Senso In Ciò Ma Esiste Solo Perché Grazie Alla Mia Forza Io Prevalgo Sugli Altri E Allora La Mia Domanda È O Ciò Che Conta È Solo La Forza I Rapporti Di Forza E Allora Hanno Ragione I Soliti Guru Del Realismo Politico Per cui In realtà Bisogna Vedere I Rapporti Di Forza Le Belle Perole Non Contano Niente E Allora Ha Ragione Israele A Far Quello Che Vuole Oppure In realtà Ci Sono Dei Valori Universali Alla Base Dello Stato E Quindi Nel Momento In cui Io Faccio Prevalere La Forza Sto Negando Me Stesso Perché È Come Se Israele Stesse Dicendo Non Ha Alcun Valore La Mia Sovranità Se C'è Qualcuno Più Forte Di Me Che Posso Upprimermi E Questa Roba Mi È È Fondata Allora Sì C'è Una Base Con Qui Ha Senso Limitare Il Potere Altrimenti Se L'unico Elemento È La Forza Non Se Ne Esce Sì In realtà Il Discorso Che Viene Fatto Sul Piano Internazionale Egel Lo Fa Anche Già A Partire Dal Rapporto Tra Gli Individui Tra L'altro Uno Degli Elementi Che Egel Individua Di Differenza Tra Il Mondo Moderno E Il Mondo Antico E Proprio Il Valore Che Viene Attribuito All'individualità E All'uomo In quanto Uomo Ovviamente Egel Aveva Dietro Di Sè La Rivoluzione Francese La Dichiarazione Dei Diritti Dell'Uomo La Dichiarazione Universale Dei Diritti Dell'Uomo E Del Cittadino Che Costituisce Secondo Lui Una Conquista Irreversibile Da Un Punto Deve Essere Ribadita Costantemente Secondo Egel Scrive Nei Lineamenti Di Filosofia Del Diritto Bisogna Comprendere Che L'uomo Ha Valore Perché Uomo Non Perché Ebreo Cattolico Protestante Tedesco O Italiano Eccetera Eccetera Occorre Che L'uomo Possa Essere Pensato Come Universale Che Si Prescinda Dalla Particolarità Per Cui Esso E Cittadino Di Questo O Quello Stato E Cioè Non È Che L'appartenenza Ad Uno Stato Ad Un Popolo Specifico Che Dà Il Valore Dell'individuo O Il Valore Dell'uomo Ma È L'appartenenza Al Genere Umano In Quanto Tale Però Si Si Apre Un Problema Per Hegel E Qual È Cioè Che Se È Vero Che L'individuo In Quanto Tale L'uomo In Quanto Tale Debbano Essere Considerati Titolari Di Diritti E Quindi Devono Essere In Qualche Modo Considerati Come Dei Valori E Anche Vero Che Il Valore Dell'individuo E Il Diritto Dell'individuo Può Essere Garantito Soltanto All'interno Di Uno Stato Perché Al di Fuori Dello Stato L'individuo Di Fatto Non Ha Valore E Al di Fuori Dello Stato L'individuo Non Ha Diritti Ecco Che Lo Stato Rappresenta Per Hegel Sostanzialmente Quella Universalità Che Custodisce Il Valore Della Particolarità Cioè Il Diritto Dell'individuo In Quanto Tale Perché Sia Appunto Secondo Le Parole Di Hegel Uno Stato Etico E Però In Hegel Esiste Anche Il Concetto Diciamo Che Viene Tramandato E Che Possiamo Desumere Di Individualità Etica E Cioè L'individuo Etico È Quello Che Riconosce Se Stesso Nella Vita Statale Istituzionale E Legislativa In Cui Si Trova E A Cui Appartiene Perché Se Un Individuo Istituzione Di Nessuno Stato Di Nessuna Legge Ecco Che Si Trova Nel Rapporto Con Gli Altri Individui Come Se Fosse Nello Stato Di Natura Per Cui Io Ho Il Diritto Di Fare Qualunque Cosa Nei Confronti Dell'altro Perché Non Lo Riconosco Nel Suo Valore Nel Suo Valore Di Individuo Lo Posso Pertanto Uccidere Lo Posso Violentare Lo Posso Affamare Come Se Mi Trovasse Appunto In Una Situazione Ex Legge Es Legge Cioè In Una Situazione Priva Di Legge Però In realtà Appunto È Importante Che L'individualità Sia Etica Cioè Che Riconosca Appunto Una Legge Superiore A Cui Appartenga Per Evitare L'annientamento Reciproco E La Brutalità Dello Stato Di Natura Lo Stesso Discorso Vale Anche Per Quanto Riguarda Il Rapporto Tra Quelle Individualità Che Per Hegel Sono Gli Stati Perché Hegel Parla Anche Degli Stati Come Di Individui Per Cui Si Tratta Di Capire Che Anche Il Rapporto Tra Gli Stati Deve Essere Regolamentato E Bisogna Tenere Conto Che Ogni Stato Deve Riconoscere Quegli Stati Da Cui Vuole Essere Riconosciuto Ogni Stato Deve Riconoscere In Qualche Modo Le Soggettività Da Cui Chiede Il Proprio Riconoscimento Però Per Avvenire Questo Deve Essere Regolamentato E Bisogna Tenere Conto Che Regola Il Rapporto Tra Gli Stati Cioè Ci Deve Essere Un Principio Superiore Che Poi Quello Che Hegel Chiamerà Lo Spirito Del Mondo Che Non Deve Essere Semplicemente Qualche Cosa Di Astratto Ma Che Deve Ottenere Una Sua Concretezza E La Concretezza Dello Spirito Del Mondo Cioè Di Uno Spirito Che Superiore All' All'universalità Dello Stato È Per Hegel Ad E Il Diritto Internazionale Il Diritto Internazionale È Quel Diritto Universale Che Deve Valere Nel Rapporto Tra Ritorniamo Alla Questione Di Israele E Degli Stati Uniti E Che Questo Discorso Non Viene Accettato Dalle Ideologie Sovraniste Che Mantengono Invece Una Prospettiva Particolarista Come Gli Stati Uniti Come Israele Che Violano Condizionano O Attaccano Continuamente Il Diritto Internazionale E Gli Organismi Che Sono Preposti A Tutelarlo Pensiamo All' Atteggiamento Che Hanno Gli Stati Uniti Nei Confronti Dell'UNESCO Pensiamo All' Atteggiamento Che Hanno Nei Confronti Del Protocollo Di Chioto Che Non È Stato Ratificato O Anche Delle Guerre Che Hanno Scatenato Senza L'avallo Del Consiglio Di Sicurezza Dell'ONU Come Quella Ad esempio Contro La Ex Jugoslavia Contro La Serbia E Anche Israele Ha Violato Decine Decine Di Risoluzioni ONU Recentemente Ha Speso Delle Parole Brutali Feroci Contro Gutierrez Contro Il Segretario Generale Delle Nazioni Unite Ha Utilizzato E Utilizza Tuttora Armi Al Fosforo Bianco Cioè Armi Che Sono Di Fatto Vietate Dalle Convenzioni Internazionali E Dal Diritto Internazionale Umanitario E Ancora Israele Deve Definire Esattamente Quali Siano I Propri Confini Evidente Che Queste Ideologie Sovraniste Continuano A Calpestare Quell'universalità Che dovrebbe Regolare Il rapporto Tra gli Stati Che Il Diritto Internazionale Però Quello Che Sostengo Io E Che Bisogna Superare Per Fare Avanzare La Democrazia La Prospettiva Sovranista Ma Che Noi Non Facciamo Avanzare Di Un Passo La Critica Al Sovranismo Se Al Sovranismo Gli Contrapponiamo Semplicemente Un Sovranismo Un Po Più Allargato Cioè Se Gli Contropponiamo Il Suprematismo Occidentale Si Tratta Invece Di Contrapporgli Un Autentico Internazionalismo Fondato Su Una Parità Assoluta Di Diritti E Doveri Fra Tutte Le Nazioni Del Mundo Concludo La Lezione Di Hegel Sappiamo Che Nella Fenomenologia Dello Spirito Hegel Dice Che Il Vero E L'intero Das Vahre Das Ganze E Se La Sua Filosofia Della Storia Può Essere Anche Accusata Di Avere Una Prospettiva Eurocentrica Però Sia La Sua Filosofia Della Storia Che I Suoi Insegnamenti Teoretici Ci Invitano Sostanzialmente A Guardare Sempre La Totalità E Cercare Di Affrontare I Fenomeni A Partire Da Una Prospettiva Mondo Non Da Una Prospettiva Particolaristica Ecco Questa Prospettiva Mondo Io Credo Che Sia Fondamentale Per Superare Sia Le Ideologie Sovraniste Del Nostro Presente Sia Il Suprematismo Occidentale Che Invece Ancora Domina La Nostra Cultura Michele Non Ti Sentiamo Oh Mamma Il Volume C'è? Sì Non C'ha Il Microfono Disattivato Non Si Ora Si Che Ce l'ha Disattivato Ora Ce l'ha Disattivato Prima Era Attivo Non Si Sentiva Prova A Levar Le Cuffie Michele Staccare Il jack Delle Cuffie L'hai Staccato Il jack Delle Cuffie No Non ti si Senta Che Prova A Staccarti A Riconnetterti Che Almeno Così Interviene Ci Sono Ci Sono Altre Domande No Ok Allora Io Questa No Se potevi Affrontare Emiliano Ora Non mi ero Preparata Nulla Però Mi ha Interessato Mi ha Colpito Tanto Questo Fatto Del Problema Del Come Affrontare La Dinamica Dei Rapporti Proprio A livello Internazionale Tra Le Entità Statuali No Quindi Il Fatto Di Un Vero Internazionismo Internazionalismo Versus Il Suprematismo Occidentale Oppure Il Vecchio Sovranismo È Una Domanda Proprio Da Studentessa È Questo Però Se Brevemente C'entrava Relativamente Sulla Democrazia Poi Faccio La Domanda Sulla Democrazia Hegel E Kant Noi abbiamo Fatto Anche Conferenze Insomma Puntate Dove Abbiamo Parlato Dello Scontro Tra Realismo Politico E Normativismo Politico Attraverso Per esempio La Rilettura Degli Scritti Di Danilo Zolo In Che Modo Ti Rileggi La Cioè Se Ci Dici Schematicamente La Differenza Proprio Di Come Kant Parlava Di Cosmopolitismo Di Questo Organismo Sovranazionale Di Alleanza E Invece Hegel Contesta Questo Cosmopolitismo In Qualche Modo Critica Il Cosmopolitismo Kantiano Che Non Tiene Conto Di Quella Totalità E Quale Sarebbe Stata Quindi La Prospettiva Invece Più Propriamente Hegeliana Sì Intanto Il Discorso Di Kant Rimane In Qualche Modo Sedimentato In Una Cornice Di Tipo Morale Mentre Invece La Visione La Visione Di Hegel È Più Politica E Hegel Ha Una Visione Politica Più Robusta Diciamo Rispetto Ai Suoi Predecessori La La Distinzione Anche Tra Il Cosmopolitismo E L' Internazionalismo La Possiamo Anche Comprendere Da Questa Differenza E Cioè Hegel Matura Precocemente Anche Prima Di Fichte Che Poi Scriverà I Discorsi Alla Nazione Tedesca Il Valore Della Questione Nazionale Il Valore Universale Della Questione Nazionale E Cioè Sostanzialmente La Libertà La Libertà Non si Afferma Con L'espansione Di Un Unico Stato Che Si Ritiene Depositario Del Valore Della Libertà E Deve Esportarla Quindi Manu Militari Agli Altri Stati Cancellando Le Differenze Particolari Le Differenze Nazionali Era Quello Che Stava Avvenendo Con La Francia Napoleonica Napoleone Che Cosa Stava Facendo A Quel Tempo Stava Affermando Di Liberare L'Europa Di Liberare L'Europa Anche Dai Regimi Più Arretrati Rispetto Allo Stato In Cui Si Trovava La Francia Dopo La Rivoluzione Del 1789 Si Trattava Di Liberare L'Europa Ma Quella Che Per Napoleone E Anche Per Il Primissimo Fichte Era Una Liberazione Dell'Europa Agli Occhi Di Hegel Non Era Altro Dell'Azione Del Valore Delle Identità Nazionali Che Invece Costituivano L'ossatura Per Hegel Del Mondo Moderno Cioè Se C'è Un Altro Principio Appunto Che Sta Alla Base Del Mondo Moderno Da Un Lato È Il Valore Dell'individuo Dall'altra È La Costruzione Dello Stato Nazionale Che Sono Tra L'altro Due Elementi In Connessione Tra Loro Perché Lo Stato Nazionale Nasce Sostanzialmente Sulla Dissoluzione Degli Imperi Prima Degli Stati Nazionali Moderni Erano Gli Imperi A Dominare La Vita Collettiva Lo Stato Nazionale Invece In Qualche Modo La Nascita Dello Stato Nazionale È L'affermarsi Del Principio Dell'individualità È L'affermarsi Del Valore Dell'individualità Infatti Va di pari Passo Questo L'ha spiegato Molto bene Federico Chabot Nel Suo libro L'idea Di Stato Nazione Però In realtà Chabot Che in Quel libro Non nomina Mai Hegel Sembra Assumere Una Prospettiva Hegeliana Perché Hegel Stesso Parla Degli Stati Nazioni Come Di Individui Bisogna Comprendere Il Valore Universale Dello Stato Nazione Pensare Una Universalità Che non Cancelli Tutte Le Differenze Particolari Ma Che Si Nutra Delle Differenze Particolarità Particolari Di cui Si Compone E Questo Valore Universale Della 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 Nazionale Ha Poi Trovato Anche Un Suo Riscontro Nel Corso Del Novecento Perché Questa Struttura Che Hegel Individua Come Il Nerbo Della Modernità Si Diffonderà Poi In Tutti Cinque Continenti Noi Abbiamo Conosciuto Nel Corso Del Novecento La Nascita Degli Stati Nazione In Africa In Asia In America Latina Che Poi Tra L'altro Anche Questa È Una Nascita Di Stati Nazioni Che Vuole Rivendicare Il Principio Dell'individualità Perché Nascono Sull'onda Delle Rivoluzioni Anticolonialiste Che Rivendicavano La Propria Dignità E La Propria Identità Contro I Tentativi Invece Degli Imperi Coloniali Di Soggiogarli Di Sottometterli Al Proprio Dominio Michele Proviamo Un Attimo Se No C'è Francesco Che Allora Aspetta Ora Ti Do Altre Indicazioni Francia Vai Sì No Io Mi Ricollego Anche Al Discorso Precedente Quando Emiliano Hai Richiamato La Concezione Hegeliana Per Qui Il Vero E L'intero E Io Una Cosa Mi È Venuto Spesso Da Riflettere Quanto Questo Concetto Sia Passato O Meno Da Hegel A Marx E Cioè Quando Anche Hegel Sottolinea Che L'uomo Ha Valore In Quanto Uomo Non In Quanto Bianco O Occidentale Eccetera Cioè Tu Nel Secondo Capitolo Del Libro Mostri Molto Bene Quanto Marx Nelle Lotte Operaie Ha Sempre Richiamato Alla Necessità Di Non Spezzare Non Dividere Le lotte Operaie Secondo Categorie Appunto Come Il Bianco Che Rifiuta Il Cinese O Rifiuta L'uomo Di Colore Eccetera La La Domanda È Un Po Questa Cioè Se Questo Viene Affermato Perché Marx Ha Capito Che Il Vero È L'intero Che Ci Sono Dei Valori Che Non Si Riducono A Una Categoria E Che Quindi È Fondamentale Il Riconoscimento Reciproco O Se Ci Sia Più Una Concezione Materialista Nel Senso Di Dovete Supportare Anche Quelle Lotte Perché Solo Se Vi Unite Allora Otterrete Il Benessere Sconfiggendo Il Capitalista Ma Se Foste Capaci Di Farlo Anche Senza Avere Loro Supporto Andrebbe Bene Lo Stesso Non So Se È Trai Quindi Loro Sostengono Fervidamente Con Grande Passione Quelle Lotte Non Perché Traevano Un Interesse Economico Materiale Loro Diretto Da Quelle Lotte Ma Perché In Quelle Lotte Loro Vivedevano Il Veicolo Dell'Universalità Questo Engels Lo dice Apertamente Quando Afferma Che L'erede Della Filosofia Classica Tedesca E Quindi Di Quella Tradizione Di Quella Stagione Filosofica Che Va Da Kant A Hegel E Che Ha Messo A Tema Della Propria Riflessione Nella Propria Riflessione Il Problema Dell'Universalità L'erede Della Filosofia Classica Tedesca Dice Engels Non È Un Filosofo O Un Pensatore È Il Proletariato Tedesco Perché Perché Quei Principi Universali Che La Filosofia Classica Tedesca Mette A Tema E Teorizza Il Proletariato Tedesco Nelle Sue Lotte Di Classe Che Sono Anche Lotte Per Il Riconoscimento Cerca Di Tradurli Sul Piano Pratico Cerca Di Tradurle Nella Realtà Di Realizzarle D'altronde Dobbiamo Considerare Anche Un Fatto Prima Negli Stati Uniti Prima Dello Scoppio Della Guerra Di Secessione L'Unione Americana E Gli Stati Confederati Confliggono Già Sul Piano Economico L'Unione Americana Per Difendersi Dagli Attacchi Che Gli Stati Confederati Sferrano Continuamente Contro Il Potere Centrale Ad un Certo Momento Impone L'embargo Il Blocco Navale Agli Stati Confederati Gli Stati Confederati Si Arricchivano Grazie Al Cotone Che Veniva Prelevato Dagli Schiavi Neri Poi Caricato Sulle Nave E Portato Nelle Fabbriche Inglesi Dove Veniva Tessuto E Venivano Prodotti I Vestiti Dagli Operai Inglesi Ebbene Questo Blocco Navale Spiego Nel Libro Produce Una Crisi Cotoniera In In Inghilterra Produce Una Crisi Cotoniera In In Inghilterra Che Poi In Qualche Modo Determina Licenziamenti Di Massa E Riduzioni Dei Salari Inglesi A Quel Punto Gli Operai Inglesi Se Avessero Voluto Guardare Al Proprio Benessere Materiale E Alla Propria Sopravvivenza Materiale Avrebbero Dovuto Chiedere Immediatamente La Fine Del Blocco Navale E La Conservazione Dell'Istituto Della Schiavitù Perché Dalla Schiavitù Nel Sud Che Veniva Impiegata Nei Campi Di Cotone Loro Potevano Avere Quelle Grandi Quantità Di Cotone Che Davano Posti Di Lavoro Nelle Fabbriche Tessili Inglesi Eppure Quando L'Unione Impone Il Blocco Navale I Lavoratori Inglesi Si Vedono Ad un Certo Momento A Londra E Redimono Un Comunicato In Cui Denunciano La Propaganda Schiavista Degli Stati Uniti E La Propaganda Filoschiavista Del Governo Inglese In Cui Esprimono Solidarietà Agli Abolizionisti In Cui Si Pronunciano Per Una Risoluzione Definitiva Del Problema Della Schiavitù E Cioè Sostanzialmente Gli Operai Inglesi Che Pure Da Un Punto Di Vista Economico E Materiale Avrebbero Potuto Beneficiare Della Schiavitù Dei Neri Che Era In Vigore Negli Stati Uniti Invece Solidarizzano Con Gli Abolizionisti E Solidarizzano Con Ecco Si tratta Di una Posizione Che Marx Saluta Con Grande Entusiasmo Perché In Essa Vi vede L'avanzamento Dell'universalità E L'avanzamento Di Un Principio Democratico Di Cui Avrebbe Potuto Beneficiare Non Semplicemente Una Classe Specifica O Una Etnia Specifica Come Potevano Essere Appunto I Neri Schiavi Nel Sud Degli Stati Uniti Ma Di Un Principio Democratico Di Cui Avrebbe Potuto Beneficiare L'intera Umanità Ecco Vediamo Che La Prospettiva Di Marx Rimane Una Prospettiva Universalistica E Marx Non Dimentica Mai Il Principio Egeliano Secondo Cui Appunto Il Vero E L'intero Gabriele Gabriele Molto Bella Direzione Del Del Discorso E Del Ragionamento E Per Richiamarci A Temi Di Cioè Questioni Che Erano Emerse Nelle Punciate Precedenti In Quest'ottica Qui Potremmo Dire Mi Pare Si Possa Dire Anche La Luce Del Discorso Che Faceva Francesco Che Appunto Il Successo Di Questa Lotta Comporterebbe Un Beneficio Reale Concreto Anche Nei Confronti Di Coloro Ai Quali Si Muove La Lotta Cioè Ai Capitalisti Stessi Solo Che Non Avendo La Prospettiva Dell'Universale Essi Si Oppongono A Ciò Che Li Realizzerebbe Stesso Discorso Che Appunto Vale Con Israele La Palestina Il La Negazione Dell'Universale Nel particolare Palestina Comporta Un danno All'Israele Stesso Intanto Questa Pillola Qua Potremmo Dire Questo Che Appunto Il Capitalista Che Si Oppone Agli Altri Particolari Senza Essere Consapevole Danneggia Se Stesso Si Nella Misura In cui Danneggia L'intera Umanità E Nella Misura In cui Appartiene All'intera Umanità Sta Danneggiando Chiaramente Se Stessa Se Stesso Si Sì È Chiaro Che Israele In Questo Momento Non Sta Semplicemente Come Noi Crediamo Difendendo La Propria Identità O La Propria Sovranità Che Tra l'altro Non si Capisce Dove Finisce Questa Sovranità Perché Dicevamo Israele Ancora Non ha Definito Esattamente Quali Siano I Propri Confini Israele In Questo Momento Sta Aprendo Un Ulteriore Focolaio Di Guerra Che Potrebbe Scaturire Potrebbe Finire Per Deflagrare In Una Guerra Mondiale Da Cui Tutti Io Credo Abbiano Da Perdere E Che Bisognerebbe Evitare In Ogni Modo Però Anche In Questo Caso Insomma Le Ideologie Valgono Più Della Razionalità E Il Livore Vale Più Di Una Visione Universalistica Delle Questioni Storiche Delle Questioni Politiche E Chiaro Che Israele Non Assume Una Prospettiva Universalistica Nei Confronti Dei Problemi In Cui Si Trova In Vischiato Ma Assume Una Prospettiva Immediata E Prettamente Particolaristica Che Finisce Inevitabilmente Per Danneggiare Anche La Sua Stessa Identità E Anche La Sua Stessa Credibilità A Livello Mondiale Si Si Stanno Moltiplicando Le Manifestazioni Pro Palestina Nel Mondo Soprattutto Nel Mondo Extra Occidentale E Si Sta Anche Moltiplicando E Sta Anche Aumentando L'odio Nei Confronti Di Israele Cioè Israele Non sta Certamente Assumendo Degli Atteggiamenti Volti A Rafforzare La Propria Credibilità A Livello Internazionale Ma sta Assumendo Un Tipo Di Politica Un Tipo Di Condotta Militare Che Non Fa Altro Che Danneggiare La Sua Credibilità E Non Fa Legittimità Morale Riproviamo Con Michele Che Ha Spinto Si Ci sei Ci sei Vai Spingi gli Accendi È il consiglio Del Tecnico Che vale Senti No Allora Io volevo Esprimere Solo un Dubbio Rispetto A una Cosa Cioè Rispetto A quello Che Si Diceva Prima Quanto Questa Lettura Delle Di Interessanti Possa Costituire Una Guida Per L'agire Anche Quindi Per L'agire Politicamente Concreto Al di là Del Riconoscimento Del Sistema Mondo Del Diritto Internazionale Spesso Ci troviamo Appunto Come Diceva Francesco A Fare La Tara Dei Rapporti Di Forza Tra Stati Ma Spesso Invece Anche Ci Troviamo In Situazioni Dove Dobbiamo Schierarci Anche Rispetto A Eventuali Conflitti Tra Stati E Magari Nessuno Dei Due Stati Ci Sembra Convincerci Particolarmente Perché Magari Non lo so Dal punto Di Vista O Di Una Democrazia O Di Elementi Progressivi Non Sembra Particolarmente Intenzionato A Sviluppare Un'universalità In Un Certo Senso Quindi Il Mio Dubbio Rispetto A Questo A Questa Lettura È Come Facciamo Orientarci Poi Effettivamente Nel Mondo Dei Rapporti Di Forza Che Dovremmo Ridurre Dovremmo Gestire Ma Che Ci Sono Sì In realtà La Domanda È Interessante Perché Pone Un Problema Effettivamente Reale Però Io Credo O Almeno Quanto Menos Spero Che Il Mio Libro Dia Una Risposta Anche A Questo Tipo Di Interrogativo E Cioè Io Affermo Che Bisogna Sostenere Le Forze Che Traenano Ma Non Sostengo Che Queste Forze Sono Quelle Forze Che In Qualche Modo Da Un Punto Di Vista Soggettivo Hanno Una Vocazione Universalistica Io Affermo Che Bisogna Individuare Di Volta In Volta All'interno Delle Circostanze Specifiche Delle Circostanze Date Quelle Forze Che Magari Da Un Punto Di Vista Soggettivo Non Hanno Alcun Tipo Di Vocazione Universalistica Ma Che Da Un Punto Di Vista Oggettivo In Qualche Modo Veicolano L'avanzamento Dell'universalità E Anche L'avanzamento Della Democrazia A livello Planetario Per Esempio Ad Un Certo Momento Nel 36 L'impero Italiano L'impero Diciamo Di Mussolini Che Ambiva Ad Essere Un Impero Quello Fascista Aggredisce L'Etiopia Aggredisce L'Impero Etiope Che Era Un Impero Anch'esso In Etiopia Era In Vigore Un Sistema Di Tipo Schiavistico Era La Schiavitù Sia pure Un Sistema Schiavistico In Decadenza Perché Il Numero Di Schiavi Era Sempre Di Meno Ci Si Stava Avviando Verso Un Processo Di Abolizione Della Schiavitù Però Non C'è Dubbio Che Quel Sistema Era Un Sistema Schiavista Governato Dal Negus E Peraltro Mussolini Afferma Di Andare In Etiopia Per Liberare Gli Etiopi Per Esportare La Libertà E Per In Qualche Modo Affrancarli Dal Gioco Della Schiavitù E Bene Ci Possiamo Porre Una Domanda Il Negus L'Impero Etiope Era Una Democrazia O Era Una Dittatura Ecco Io Credo Per Questo Faccio Intervenire Una Distinzione Nel Mio Libro Soprattutto Nell'introduzione La Distinzione Tra Sistema E Funzione E Cioè Non C'è Dubbio Che L'Impero Etiope Costituiva Un Sistema Dittatoriale Perché Appunto Era Incentrato Sul Istituto Della Schiavitù Ma Nel Momento In Cui Quel Sistema Dittatoriale Entra In Conflitto Con Una Dittatura Di Proporzioni Maggiori E Di Minaccia Maggiore Per L'umanità Come Era Il Nazifascismo In Espansione Nel Momento In Cui Cerca Di Resistere All'avanzata Di Quell'altra Dittatura Molto Più Pericolosa E Chiaro Che Il Negus E L'Impero Etiope Svolgono Una Funzione Democratica Pur Rimanendo A livello Di Sistema Una Dittatura Perché Costituiscono Un Bacino Di Resistenza Che Impedisce L'avanzare E L'espandersi Del Nazifascismo In Ascesa Non è un Caso Che Giuseppe Di Vittorio Futuro Combattente Partigiano E Futuro Fondatore Della CGL Invia In quel Momento In Abissinia I Cosiddetti Tre Apostoli Tra cui Figurava Anche Ilio Barontini Che Combattono A Fianco Dei Proprietari Di Schiavi Contro L'avanzata Di Mussolini Ecco Quella Resistenza Sia pure Condotta Appunto Da un Impero Di Tipo Schiavista Quindi Da Una Dittatura Era Una Resistenza Che Svolgeva Una Funzione Democratica La Vocazione Soggettiva Ovviamente Non era Universalistica Al Negus Non Importava Certo Il Destino Dell' Umanità Ma Nel Momento Ma La Sua Funzione Oggettiva Era Una Funzione Che In Qualche Modo Tutelava Gli Interessi Dell'umanità C'era Gabriele Poi Anche Letizia Gabriele Dimmi Emiliano Se sei D'accordo Così Ti faccio Una Domanda Più Per Così Dire Storiografica Allora Come Diceva Michele Prima Di Sosto Si Dice Noi Possiamo Fare Un Discorso Universalistico E se Vogliamo Usare Come Sinonimo Un Discorso Etico Di Riconoscimento Dell'altro Ma poi ci sono i rapporti di forza Dentro il discorso che abbiamo sviluppato Possiamo dire che Questa contrapposizione non c'è E che appunto ci sono i rapporti di forza Nel senso che qualcuno viene più ascoltato E ha più autorevolezza Ma se appunto non ha in vista la logica universalistica Poi questa potenza inevitabilmente si autodistruggerà Cioè il non aver presente questo discorso che stiamo sviluppando Danneggerà la potenza stessa Per cui mi viene in mente una contrapposizione che avevo sentito di recente Fatta da Orsini che pur fa un lavoro eccellente Diceva un contro la logica del potere Un altro è la logica dell'etica Sono due logiche diverse Appunto dentro questo discorso Sembra che siano esattamente la stessa cosa E che in ogni riconoscimento etico universalistico Comporti la distruzione anche dell'individualità Che vorrebbe appunto prosperare Non riconoscendo Che può prosperare nella misura in cui Afferma le altre individualità Appunto quel discorso che facevi anche rispetto Alle nazioni Quindi sei d'accordo In queste conclusioni In queste altre considerazioni Io credo ad un certo momento Che un principio di universalità Per risolvere un conflitto Deba essere affermato Un principio universale Se le parti che si trovano in lotta All'interno di una contraddizione All'interno di un conflitto Non accettano nessuna delle due Fino alla fine dei tempi Nessun principio universale Quel conflitto Porta alla distruzione reciproca delle parti O alla distruzione di una delle due parti All'annientamento di una delle due parti Ma non porta a un avanzamento Dell'universalità E neppure ad una vera e propria risoluzione del conflitto Per questo un politico A cui Che io guardo sempre con molto interesse Perché era una figura Piuttosto intelligente Aveva Era dotata anche di grande sarcasmo Era il presidente francese Clemenceau Durante la prima guerra mondiale Quando gli Stati Uniti Presentano le tesi in 14 punti Per giustificare il proprio Intervento nella guerra Clemenceau guarda queste tesi E commenta Beh almeno Il buon Dio Aveva avuto la modestia Di limitarsi a dieci comandamenti E Presidente Clemenceau Che era dotato anche Di una vena sarcastica Ma anche in qualche modo Penetrante Tagliente Quando parlava Dei conflitti bellici Cioè delle guerre Diceva Le guerre Sono cose Troppo serie Per lasciarle in mano Ai militari E cioè Mostrando sostanzialmente Che vi è una differenza Tra La dimensione Militare La dimensione Dell'esercito E il mondo politico Perché l'esercito Quando si trova Coinvolto in un conflitto Ha come obiettivo L'annientamento Dell'armata nemica E cioè La vittoria militare Lo schiacciamento Sull'armata nemica Il politico Il mondo politico Invece si deve porre I problemi Anche della risoluzione Di quel conflitto Per evitare Anche il proprio Stesso annientamento Ecco Da questo punto di vista È chiaro Che Qualunque In qualunque conflitto Primo o poi Si deve Cedere A un principio Universalistico E questo Si va di bene È presente anche Nel conflitto Israelo-Palestinese Solitamente Si dice Hamas Vuole annientare Israele Hamas Non riconosce Israele A parte che Neanche Israele Riconosce La Palestina E a parte Che ci sono Tutta una serie Di ranghe Politiche E non soltanto Militari Se andiamo poi Sul piano militare Abbondano Ma anche sul piano Politico Che vorrebbero proprio Annientare Il popolo Palestinese Anche dei componenti Del governo Hanno parlato Di gettare Una bomba atomica Su Gaza Lasciando In qualche mondo Evocando Una sorta di soluzione Finale Della questione Palestinese E però Anche per quanto Riguarda Hamas In realtà Dobbiamo distinguere Io credo L'ala militare Dall'ala politica Di Hamas Perché ci sono Da un lato Delle dichiarazioni In qualche modo Sprezzanti Nei confronti Di Israele E della sua stessa Legittimità Di esistere Ma queste sono Le dichiarazioni Che provengono In qualche modo Dai ranghi Dell'esercito Di Hamas Cioè Quella che è L'ala militare Poi c'è Invece L'ala politica Che invece Ha rilasciato Dichiarazioni Ad esempio Favorevoli Al rilascio Degli ostaggi Nel caso in cui Ci fosse un Cessate il fuoco E ci fosse Una cessazione Dei bombardamenti Israeliani Su Gaza E poi Già in passato Ad esempio Nel 2017 Hamas Aveva affermato Che era pronta Ad accettare Lo Stato Di Palestina Entro i confini Del 1967 Noi questo Dovremmo Allora Chiederci Prima di tutto All'interno Di questo conflitto Perché Quando Nel 2017 Hamas Ha affermato Che era pronta Ad accettare Lo Stato Di Palestina Entro i confini Del 1967 Che sostanzialmente Significava Ribadire Le risoluzioni Dell'ONU L'Occidente Non ha detto Nulla L'Occidente E Israele Non hanno detto Nulla E hanno voltato Le spalle Hanno fatto Finta di niente Nei confronti Di questa Presa Di posizione Perché Perché evidentemente Non c'era Una volontà Di convivenza Una volontà Di accettare L'esistenza Dello Stato Palestinese Che era Invece Uno dei principi Su cui Si sono fondate Tutta una serie Di risoluzioni Dell'ONU Però è anche Il fatto Che Hamas In qualche modo È divisa Tra queste due ali Un'ala più militare Un'ala invece Di tipo politica Che ragiona In modo diverso Rispetto a quella militare Che Hamas Non viene riconosciuta Dall'ONU Come un'organizzazione Terroristica Ecco Io credo Che nei confronti Di queste aperture Che sono delle aperture Finalizzate A fare Valere il principio Politico Sul principio militare Cioè queste aperture Anche di Hamas Che affermano La possibilità L'accettazione Di uno Stato Di Palestina Entro i confini Del 1967 Nei confronti Di queste aperture Noi dovremmo Cercare Di Non Non chiudere Le porte Non essere Ciechi Non essere Non essere Come dire Boriosi O guardarle Con animo Sprezzante Perché sono Appunto Un tentativo Di risolvere Il conflitto Facendo avanzare Appunto Il piano Dell'universalità E anche Il piano Della democrazia Nei rapporti Internazionali Leti Allora Io Non so che Vanno Un'idea Nel senso Ora Ce l'avamo Più Concentrati Sull'aspetto Universalismo Cosmopolitismo Internazionalismo Realismo Politico Io Cerco Di ritornare Un'idea Che avevamo Avuto Per la Discussione Per la Tavola Rotonda Era cercare Di fare Anche Di riquadri Proprio Di approfondimento Di attualizzazione Questo libro Innumerevoli Volte Però Cerchiamo Di farlo Da un certo punto Portando L'attenzione Su un aspetto Particolare Precisamente Sul concetto Del rapporto Tra Democrazia E Bonapartismo Allora Se noi Prendiamo Solo la definizione Che troviamo Sempre sulla Treccane Che è diventata Una mia fissa Che parto Anche a scuola Sempre partendo Da quella cosa Lì La definizione Che troviamo Di Bonapartismo È Movimento Che rivendicava La restaurazione Della dinastia Napoleonica In Francia Nel corso XIX secolo Il trionfo Politico Del Bonapartismo Coincise Con l'asciata Al trono Di Napoleone Terzo Che restaurò L'impero In Francia 1852 1870 E Se noi Leggiamo Anche la storiografia Delle Contemporanea Che tenta Rileggere Il Bonapartismo Per esempio Lo storico Magro Cosa dice Il governo Di Luigi Bonaparte Era Un governo Sui generis Perché era Un governo Sui generis Perché Univa Strumenti Che erano Di suffragio Universale Quindi Dichiaratamente Democratici Perché Votano tutti Questo cos'è Se non questo Un regime Democratico Ma nel contempo Restringeva Tutti quelli Che erano Gli spazi Effettivi Di partecipazione Politica Ad esempio Riduce Il numero Il numero Dei rappresentanti In Parlamento Mette Il Parlamento Viene convocato Molto più raramente Proprio formalmente Viene legiferato Che il Parlamento Non è necessario Che venga Convocato assiduamente Fa una riforma elettorale In modo tale Che vengano Disegnate le circoscrizioni Elettorali E quindi Quelli che sono Le circoscrizioni Urbane Dove ci sono Dove è presente Il soggetto Del proletariato Emergente In una fase Dove si sta Aprendendo La seconda rivoluzione Industriale Venga ridotta La sua influenza Perché viene messa Insieme Alle circoscrizioni Dove sono Contadine Dove quindi È evidente Che lì L'orientamento politico Non sia chiaramente Progressista O che sia A favore Del proletariato Pensiamo a tutta La questione Che c'era stata Per esempio Sulle atelier Nationaux E un altro strumento E qua ti chiedevo Un po' la tua Anche agli altri Un po' di riflessione Quindi Se si capisce bene È vero Che è un governo Sto i generi Perché dice Scusa Aspetta un attimo C'è un problema Sul tuo microfono Scusate Faccio così Non riesco a capire Perché Dicono Che gracchia Ma sarò io Che La sera dei microfoni Quindi Quindi Da una parte Abbiamo Suffragio universale Ma il luogo decisionale Il Parlamento Viene ridotto E quindi Quella che è La partecipazione Viene Ridotta In maniera drastica L'altro strumento Che utilizza Bonaparte È Il cosiddetto Plebiscito Quindi C'è una roba Si decide su quello Il popolo Dice È chiamato A votare Sì o no E statisticamente Se noi riguardiamo La storia Molto spesso Le elezioni Rivanno a favore Sempre di Bonaparte E Nonostante Ci siano Le riduzioni Proprio Degli spazi Democratici Di discussione E Magro Dice Questo sistema Del plebiscito Che sarebbe Oggi Il nostro Referendum È Uno strumento Populista Perché C'è un rapporto Diretto Tra Leader E Popolo E quindi Tutti quei luoghi Di mediazione Di discussione Invece Vengono Completamente Depennati Ora Siccome Nella tua Riflessione Nel tuo testo La cosa La questione è Teniamo conto Partendo dalla logica Hegeliana Della totalità La democrazia Non si può ridurre Soltanto Agli strumenti Tecnici Tipo Il suffragio Universale Ma devo Tenere conto Di più Aspetti Che interagiscono Quindi ad esempio Anche soltanto Da un punto di vista Formale Se non c'è Il Parlamento Non c'è Discussione E quindi La partecipazione Viene garantita Però Come vedete L'istituto Referendario In questo caso Cioè È Un istituto Che può essere Declinato Solo in termini Di populismo E se lo è Populismo È solo male Lo dico Da Ormai chi ci segue Lo sa Lo dico Da vetero Comunista Che molto spesso Ha avuto un po' La puzza sotto il naso Rispetto al populismo E quindi mi chiedo Questi sistemi Questi anche Istituti Che invece Da parte della sinistra Anche più recentemente Vediamo La questione Per esempio Dell'articolo 18 La questione Del fatto Dell'acqua Eccetera È uno strumento Che noi abbiamo Brandito Anche per dire Questa è partecipazione Ma È partecipazione O è invece Funzionale A questo rapporto Diretto E alla mancanza Di discussione Come leggerlo Insomma In questa Democrazia occidentale La domanda È articolata È complessa Va bene Sì Sicuramente Io credo Che il populismo Sia un nemico Della democrazia Quando Luigi Bonaparte Sale al potere Fa del populismo In qualche modo La sua arma Fondamentale Esalta Il popolo Esalta La nazione Ovviamente Non quella parte Del popolo Che Ha una maggiore Coscienza politica Una maggiore Forza organizzativa Ma quella parte Del popolo Meno organizzata Politicamente E quella parte Del popolo Più Analfabeta Politicamente Quello È il popolo Per eccellenza Di Luigi Bonaparte Quello è il popolo Che viene Continuamente Esaltato Cioè Il popolo Politicamente Innocuo È quello Che è oggetto Di celebrazione D'altro canto La politica Di Luigi Bonaparte A che cosa Procede Procede Ad una Distruzione Di tutti i corpi Rappresentativi Intermedi L'hai detto bene La distruzione Del Parlamento La distruzione Dei partiti Politici La distruzione Dei sindacati Perché Lui affermava Sostanzialmente Che non c'era Bisogno Di questi Corpi Rappresentativi Intermedi Per veicolare La volontà Del popolo C'era soltanto Lui Che era già Espressione Diretta Della volontà Popolare Nella Francia Doveva esserci Un rapporto Diretto Tra sovrano E poi Andata via La voce Dei disputismi Per inciso La conquista Dei corpi Rappresentativi Intermedi È fondamentale Allo sviluppo Dell'universalità E allo sviluppo Della democrazia Abbiamo Tra l'altro Anche A degli altri Elementi Che stanno Alla base Di questo Populismo La sostituzione Dei Anonimi E degli impersonali Programmi Politici Con la celebrazione Del capo Dell'individualità Geniale Del carisma Dell'individuo Che guida Le masse E guida I destini Della nazione In questo caso L'individuo geniale Era proprio Luigi Bonaparte E abbiamo Poi un allentamento Delle tensioni Sociali Attraverso Quella che viene Chiamata L'esternalizzazione Del conflitto I conflitti Sociali Appunto Tra i diversi ceti Di diverse classi Venivano esternalizzati E proiettati Verso L'esterno Scatenando Delle guerre Contro altri paesi E altri popoli E poi abbiamo La centralizzazione Degli organi di stampa Per cui Gli organi di stampa Non riescono più A veicolare Diversi punti di vista Anche quelli Che mettono in discussione La tenuta del sistema Ma veicolano Soltanto Una pluralità Di punti di vista Che comunque sia Corroborano a tutti La tenuta Del sistema Politico Che si vuole Imporre Quel sistema Bonapartista Che si vuole Imporre Oggi Noi ci troviamo Di fronte a una situazione Per certi versi Simile E non è un caso Che alcuni Hanno parlato Della nostra società Come di una democrazia Sostanzialmente Svuotata Di contenuto Di una democrazia Di tipo Bonapartista Perché Perché in effetti Noi vediamo I corpi rappresentativi Intermedi Continuamente sotto attacco Abbiamo visto Sotto attacco Il Parlamento Abbiamo visto Sotto attacco I partiti Vi ricordate Il sistema Delle caste Le caste Tanto attaccate Dal Corriere della Sera E dal Sole 24 ore Che diceva Erano Una minaccia Di cui In qualche modo Una zaborra Di cui bisognava Liberarsi La polemica Ad esempio Dei radicali Contro la partitocrazia Ci ricordiamo E abbiamo Anche un attacco Ai sindacati Matteo Renzi Quando salì al potere Disse io Con i sindacati Non parlo Non mi interessa Di quello che dicono E cioè Di questi corpi Questi corpi Rappresentativi Intermedi Sono tutti Sotto attacco Ritroviamo Il culto Della personalità Pensiamo ad esempio A quanta Celebrazione Ha ricevuto La figura Di Draghi In tutto L'arco Del suo governo Troviamo Conosciamo Il processo Di centralizzazione Degli organi Di stampa Che ormai Esprimono Una pluralità Che comunque sia Non mette in discussione L'assetto capitalistico Delle nostre società E una pluralità Che non mette Comunque mai In discussione Il suprematismo Occidentale L'abbiamo visto Sia per quanto riguarda La guerra In Ucraina Sia per quanto riguarda Il conflitto Israelo-Palestinese E potremo continuare A lungo Non solo Ma il sistema Maggioritario Che è stato imposto Con la distruzione Del proporzionale E anche La spesa elettorale Che ha cominciato A lievitare In Occidente Estromettendo Intere I strati sociali Dalla possibilità Di accedere Ai meccanismi Decisionali Negli Stati Uniti Per esempio Vincere le elezioni Alla Casa Bianca Comporta Una spesa Di decine Di miliardi Di euro Tu O hai la capacità Di attingere A decine Di miliardi Di euro O sei completamente Estromesso Dalla possibilità Di competere O di vincere Le elezioni Ebbene Sostanzialmente Sono stati avviati Tutta una serie Di meccanismi Populistici E bonapartisti Che Estromettono Le masse popolare Dalla capacità Di incidere Sui processi Decisionali E in questo contesto Che noi ci dobbiamo Chiedere Qual è il senso Del Del referendum Se il referendum In qualche modo Riesce A fare avanzare A tutelare A difendere A essere espressione Dei principi democratici O se l'avvallano Ulteriormente Ecco E' chiaro Che in un In una società In qualche modo Fondata Sulla democrazia Moderna Dove tutti Gli elementi Che sono stati Ora sradicati Funzionassero Allora non ci sarebbe Bisogno Del referendum Perché le masse Popolari Per esprimere La loro volontà Avrebbero i propri Rappresentanti Che sono dentro Delle istituzioni Che rispettano La pluralità Delle parti E la pluralità Delle voci Ma in una società In cui le istituzioni Sono state svuotate Di contenuto Non riflettono Più la pluralità Delle parti Non riescono a riflettere Minimamente La volontà popolare Né a livello Di voce Né a livello Di capacità Di incidere Minimamente Sui processi Decisionali E sui processi Politici E' chiaro Che in una situazione Come questa Il referendum E' uno Degli pochi Strumenti Rimasti In mano Alle masse Per esprimere Anche soltanto La propria voce Esprimere appunto Soltanto La propria volontà Che altrimenti Remarrebbe Soltanto Semplicemente Assolutamente Silenziata Le masse popolari Non hanno Organi di stampa Non riescono Ad accedere Ai grandi Canali di comunicazione Che sono invece In mano Sostanzialmente Ai ceti proprietari Ai ceti economici Più Benestanti Grazie Gabriele C'è una mano alzata Non so Se era un residuo Di prima O volevi rintorare Va bene Giulio State a fare un po' Le fila Della discussione E mandarci a vetto E Giuliano Guarda che Gabriele Ha risposto il contrario Ah scusami Scusami Mi sono tutto rincoglionito Vai vai No Volevo sottolineare Appunto Questo aspetto Di cui ci parlava Emiliano Perché Ha inquadrato Benissimo A mio avviso Che cosa sono Il populismo E il sovranismo Sono appunto Un'espressione Di una mancanza Di democrazia Che scelgo Una via Poco democratica Per cercare Di ristabilire La democrazia Una strepitosa Sintesi A mio avviso E volevo Solo appunto Ritornare Sulla Sulla questione Storiografica Per così dire Lasciata in sospeso Che mi curiosiva Sentire la sua Interessa molto Sentire La tua risposta Emiliano E proprio Vista L'azione Di Di Marx E i commenti Di Marx Le considerazioni Di Marx Che portano A Asserire Che avesse Ben in vista La logica Dell'universale Di Hegel Perché È passato La storia Come Qualcosa Di altro Una rottura Rispetto All'hegelismo Perché Il materialismo Storico Viene concepito Nella vulgata Come qualcosa Di anti-metafisico Anti-universalistico Cioè Inteso appunto Metafisico Ovviamente Della tradizione Filosofica Che Hegel Porta A ulteriore Sviluppo E appunto Non parliamo Di un Socialismo Metafisico Di un Socialismo Filosofico Universale E invece Concepiamo Mi pare Il materialismo Storico Come Un Chiudere I conti Con quella Tradizione Che invece In Hegel Che Hegel Vorrebbe Far splendere Ulteriormente Pur Con I cambi Di rotta Significativi Sì Naturalmente Ricostruire Tutto il Dibattito Storiografico Sul pensiero Di Marx È difficile Naturalmente C'è stata Una corrente Adesso mi Fermo Mi fermo Soltanto All'Italia C'è stata Una corrente Che ha cercato Di insistere Sulle divergenze Tra Marx Ed Hegel La corrente Inaugurata Soprattutto Da Galvano Della Volpe Che poi Ha trovato In qualche modo Uno sviluppo Nelle riflessioni Di Nicolao Merker Di Lucio Colletti Di tanti Di tante altre figure E devo dire Che questa corrente Tra l'altro Ha avuto Gioco facile Perché In Marx C'è Soprattutto Nel primo Marx Una sostanziale Presa di distanza Esplicita Rispetto Al pensiero Di Hegel Però Molti hanno Parlato Di un Parricidio Mancato E cioè Sostanzialmente Marx Sembrava Un po' Preso Dalla volontà Di mostrare L'originalità Del proprio Pensiero Rispetto A quello Che era La filosofia Di Hegel E soprattutto In un primo Momento La sua lettura Di Hegel Era influenzata Dalla lettura Di Feuerbach Che a sua volta Era stato Influenzato Dall'ultimo Schelling Però In Italia Vi è una corrente Che è quella Da cui io Provengo Di orientamento Hegelo-Marxista Per l'appunto Che è stata fondata Tra l'altro A Urbino Da un filosofo Spesso dimenticato Che si chiamava Arturo Massolo Che Con la sua Riflessione Sviluppata Poi da Figure Come Pasquale Salvucci Livio Sicirollo E da ultimo Domenico Lo Surdo Hanno cercato Invece Di mostrare Le affiliazioni Le linee Di continuità Tra il pensiero Di Marx E il pensiero Di Hegel Però ci terrei A precisare Una cosa E cioè Io non sostengo Che il pensiero Di Marx In qualche modo Sia continuatore Del pensiero Di Hegel Perché Perché anche In Marx C'è una Metafisica C'è una Visione Della Spiritualità Che è stata Dimenticata Io affermo In realtà Non sostengo Insomma Come qualcuno Sostiene Che Marx Sia un autore Idealista E che quindi Abbia Una linea Di continuità Rispetto a Hegel Quello che sostengo Io è che sia In Hegel Che in Marx Vi sia Un superamento Dialettico Della distinzione Tra idealismo E materialismo E cioè Noi troviamo Degli elementi Molto materialistici Ad esempio Nella filosofia Di Hegel Pensiamo Al concetto Di spirito Se noi Guardiamo Il concetto Di spirito Dentro il concetto Di spirito C'è anche Il lavoro La produzione Materiale E spirito Per Hegel Dentro Il concetto Di spirito Ci sono anche Le configurazioni Geografiche Se noi Apriamo le lezioni Sulla filosofia Della storia Vediamo Che le diverse Configurazioni Spirituali Dei popoli Traggono origine Dalle differenze Geografiche Quindi da differenze Di tipo Prettamente Materiali Naturali Cioè Il concetto Il concetto Di spirito Abbraccia Anche quello Di materia In Hegel Ma anche In Marx Il concetto Di batteria Abbraccia Quello di spirito Perché Perché Quando Marx Ad esempio Afferma Che Quando le idee Penetrano Nei cervelli Di milioni E milioni Di persone Assurgono Al rango Di una potenza Materiale Sta riconoscendo Il valore E la potenza Dell'idea Cioè Sta riconoscendo Il valore E la potenza Dello spirito E in Marx E in Hegel C'è questa Continua Compenetrazione Per ritornare Appunto A questo concetto Fondamentale Da cui eravamo Partiti Tra spirito E materia Questo L'ha compreso Bene Molto bene Anche Gramsci Gramsci Insiste Su questa Unità Di spiritualismo E materialismo Già presente In Hegel E poi Editata Da Marx E per questo Che può rispondere Bene a Giovanni Gentile Quando Giovanni Gentile Inveisce Con disprezzo Contro la rivoluzione D'ottobre Di Lenin Dicendo Ma questa rivoluzione Non è altro Che un abbassamento Dell'uomo Perché lo riduce A un essere Animale Quando l'uomo È spirito Questa rivoluzione Che cosa vuole Vuole soltanto Il pane Chiedono soltanto Di poter mangiare Questi operai Cioè Si occupano Soltanto Di questioni Meramente Biologiche Animalesche Ed è per questo Che abbassano Invece Il livello Dell'umanità Che invece Che avrebbe Un alto Valore Spirituale Ebbene Gramsci Gli risponde Guarda Ti sbagli In realtà Chi abbassa L'uomo A livello A quella Spiritualità A cui si è elevato È quella Guerra mondiale Che tu sostieni È quella Guerra mondiale Che invece È fondata Su degli interessi Meramente materiali Perché è una guerra Per la spartizione Delle colonie Per la spartizione Delle sfere D'influenza Del capitale Finanziario E invece Quella rivoluzione D'ottobre Che tu vuoi ridurre È una rivoluzione Meramente materiale È anche una rivoluzione Di tipo Metafisico Dice Gramsci Si esprime È anche una grande Rivoluzione Metafisica Perché fa evolvere Non soltanto Le condizioni Materiali Dell'essere umano Ma anche La concezione Universale Di essere umano E anche La coscienza Dell'essere umano E quindi Quella è una rivoluzione Che fa evolvere Di fatto Anche La spiritualità La dimensione Dello spirito Umano Non semplicemente La dimensione Biologico Materiale Ecco Abbiamo Un ribaltamento Completo Di posizioni Ma anche Un rivendicare Questa unità Dialettica Tra spirito E materia Che dovrebbe essere Una propria Caratteristica Del marxismo Ma una caratteristica Che era già presente Come dicevo In precedenza Nella filosofia Di Hegel Perché nel concetto Di spirito Di Hegel Sono ben presenti I processi materiali E ben presente La questione Del lavoro Ed è presente D'altro canto Anche tutta La filosofia Della natura Che viene riportata Anche Ad una Logica Ad una logica Del movimento Ad una logica Della processualità Ganza L'ultimo intervento Molto ganza Giulio A te L'onere Delle conclusioni E di mandarci A letto Ringrazio Emiliano Per la Per la Bella Conversazione E Rimando A chi Volesse Il libro Del Di Emiliano Democrazie Dittatore Democratiche E democrazie Dittatoriali Problemi storici E filosofici E I temi Sono stati tanti Credo molto Interessanti Certo l'ora Ormai è tarda Quindi anche Anche la stanchezza Si sente E quindi Io direi Di andare a letto E salutarvi Annunciamo solo Settimana prossima Michele Michele Parlasi Brevemente Settimana prossima Mi sentite adesso? Sì Benissimo Meno male E niente Settimana prossima Si vede il marxismo Anti-hegeliano Invece Quindi si Cambia Completamente Rotta Si parlerà Di ideologia E In un contesto Hegeliano In particolare Rispetto al pensiero Di lui Althusser E della sua scuola Quindi una Diciamo un'inversione O una pretesa Di inversione Forse Di rotta Su una tematica Come quella Dell'ideologia Sempre molto attuale Con Stefano Pippa Bravo Michele Comunque complimenti A profusione Qua in chat Per Emiliano No no Emiliano Sempre una bomba Sempre bravissimo Quindi acquistate il libro Se è stato così bravo Comprate il libro Frugatevi Come dice il neccione Frugare Tasca Grazie mille Grazie a tutti Con gli ottoline Invece ci vediamo Domattina Con la rassegna stramba Domattina Ci saranno anche Gli amici Del CALP Quindi il collettivo Autonomo Lavoratori Portuali Di Genova Che insomma Stanno dopo Stamattina Che ci siamo Collegati Con l'orientale Occupata Di Napoli Grazie a Granato Domattina abbiamo Questo La rassegna stramba Come sempre Dei giovedì Insieme a Clara Statello Ma ci saranno Ospiti Appunto Anche Hosanna I voi Del CALP Di Genova Perché appunto La mobilitazione Si muove anche Su quel fronte lì Di ostacolare Come D'altronde È già stato fatto In passato Per le armi Saudite Dirette In Yemen Ostacolare Insomma Il traffico Di armi Che raggiunge Israele E aiuta Il genocidio Dei palestinesi Quindi ci vediamo Domattina E poi domani sera Di nuovo Otto volante Come sempre Vi faremo anche Un po' Un bilancio Della Forum Euroasiatico Forum economico Euroasiatico Di Verona Che si è tenuto A Samarkand Dove eravamo In gita Grazie a tutti Grazie ancora Emiliano Grazie a tutti Grazie Ciao 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 Grazie a tutti Grazie a tutti